Ciao, se sei qui probabilmente stai cercando di capire come trovare le ricevute dei bonifici sull'app Banco Posta e in questo video ti guiderò passo passo attraverso il processo. Quindi preparati a diventare un esperto dell'app Banco Posta in pochi minuti, dato che il processo è davvero molto molto semplice. Il primo step è quello di accedere alla tua area personale e dopo aver aperto l'app Banco Posta inserisci le tue credenziali e accedi alla tua area personale. Se non hai ancora un account ti consiglio di registrarti seguendo le istruzioni fornite dall'app che sono di solito molto semplici e intuitive. Il prossimo step, ovvero il step 2, è quello di cliccare sul menu a tendina in alto a sinistra e una volta entrato cerca la sezione Bacheca qui potrai vedere tutti i messaggi relativi al tuo conto, compresi i bonifici. Il terzo step è quello appunto di cercare il bonifico di interesse all'interno della bacheca e scorrirai l'elenco dei movimenti finché non trovi il bonifico di cui desideri la ricevuta. Potrebbe essere utile utilizzare la funzione di ricerca o anche filtrare i movimenti per data in caso che si tratti di un bonifico fatto tempo addietro. Il prossimo step, ovvero il 4, è quello di scaricare la ricevuta. Dopo aver trovato il bonifico, clicca su di esso e si aprirà una nuova schermata con tutti i dettagli e il bonifico. In questa schermata dovresti vedere un'opzione per scaricare o visualizzare la ricevuta in fondo alla schermata in basso. Quindi clicca su di essa e la ricevuta verrà scaricata sul tuo dispositivo. Alcuni consigli utili. Assicurati di avere una connessione internet stabile quando utilizzi l'app. Se non riesci a trovare la ricevuta, prova a chiudere e a riaprire l'app o a contattare il servizio clienti di Banco Posta. Conserva sempre le ricevute di bonifici in un luogo sicuro. Potrebbero esserti utili in futuro per questioni fiscali o per risolvere eventuali dispute. Ecco fatto. Spero che questa guida ti abbia aiutato a capire come trovare e scaricare le ricevute di bonifici sull'app Banco Posta. Come puoi vedere, è un processo piuttosto semplice e diretto. Ci vediamo al prossimo video.